Ha sentito urlare, quindi effettivamente c'è stata una colluttazione. Sembrerebbe un pestaggio in piena regola, quello avvenuto ieri mattina intorno alle 8.30 in via Alpi Giulia, al civico 8-1. Tra segnalazioni e conferme degli stessi condomini siamo venuti a scoprire che quest'uomo, ultra sessantenne, sarebbe stato aggredito da persone che verosimilmente dovevano conoscerlo bene. La colluttazione da come si evince nelle immagini è avvenuta all'interno dello stabile e precisamente al quinto piano, vicino all'ascensore. I condomini sono ancora comprensibilmente scossi per l'accaduto. delle macchie che si sono versate durante la colluttazione. Ancora adesso possiamo notare una striscia di sangue che è ancora rimasta, non è stata ancora pulita. Ad ogni modo ci hanno confermato che un uomo sulla settantina è stato effettivamente aggredito. Al quinto piano del condominio c'era davvero molto sangue, una scena quasi da film. Il ragazzo che si occupa della pulizia dello stabile ha avuto il suo bel da fare per eliminare le macchie che per quasi 24 ore sono rimaste sui muri e sui pavimenti. Ora la persona aggredita si trova all'ospedale in gravi condizioni.